Buonasera, sono Marzio Sala, presidente e direttore della scuola per educatori cinofili di Affinity Dog. Perché un cane rientra in canile? Spesso perché ha fame d'aria. Cosa vuol dire che un cane rientra in canile perché ha fame d'aria? Prova ad immaginare di essere un cane, di essere nato e cresciuto in un canile. Hai volontari che ti amano, che ti coccolano, che ti danno cibo e acqua, che ti fanno giocare, ma tutto ciò in un perimetro delimitato. Nonostante questa condizione, ti sentiresti libero? No, non ci credo. Un cane ha fame d'aria perché è nato per gestire la propria libertà. La libertà è un bene incalcolabile e che non può essere scambiato o barattato con niente. È nostro e ci appartiene di diritto. Ci sono però esseri ai quali viene tolta e non per propria scelta, ma per ignoranza. Quando un cane esce dal canile vive un periodo, diciamo che va da due settimane a tre mesi dell'adozione, di grande euforia, di grande eccitazione che lo porta spesso a compiere comportamenti che in canile non ha emesso. Buche in giardino, tirare al guinzaglio come un trattore, distruzioni in casa e chi più ne ha più ne metta. Bisogna aspettare e avere fiducia perché la situazione rientra. È normale quando scopri le comodità, l'amore esclusivo che un minimo di follia lo dimostri. È solo una dimostrazione di felicità. Se hai la paziente da aspettare, il cane ti ripeverà, ma se non la dimostri, riporterai il cane in canile facendo un errore madornale, l'ennesimo direi. Abitualo a sfogare questi momenti all'esterno di casa. Fai giochi come la ricerca e l'attivazione mentale che lo rilassano. Parla lì solo con un tono di voce basso per non innescare un meccanismo eccitatorio e poi l'incastro perfetto arriverà. La fame d'aria non è un problema di comportamento, ma solo una necessità di far capire al proprio corpo che le cose sono cambiate e che la vita sta migliorando. Non fare barriera, ma segui il flusso. Se volete un parere scriveteci una mail ad infochiocciola affinitidog.it, seguiteci sulla nostra pagina facebook affinitidog.educazionecinofila e sul nostro sito internet www.affinitidog.it